benvenuti amici peppers benvenuti canale youtube on lisvapo e io sono mister nino tata trattino basso dnt vediamo oggi la recensione dell'uncle merenghe arriva in famiglia sono al campanello chi è din don so zio benissimo direttamente dalla california arriva questa torta rainbow con un mix fruttato contornato quindi da questa dolcissima torta che ci hanno abituato sin dalle prime uscite dei loro prodotti a sbavare ragazzi per saperne di più sigla e recensione e dopo aver assaporato e deliziato il mister merenghe ci ha fatto compagnia la sua signora la miss merenghe direttamente dalla california ci viene a far visita lo zio l'uncle merenghe con una rainbow cave alla merenghe ovvero una torta arcobaleno con delle note fruttate e zuccherine il suo ripieno sarà un fruttato un mix di frutta con arancia ananas e lampone la sua confezione contiene quindi 50 ml di liquido pronto da quindi aggiungere la nostra basettina 10 ml per aggiungere la nostra graduazione di nicotina preferita al lato quindi il sito del brand produttore e dietro alcune informazioni andando quindi ad aprire la scatolina la confezione vi voglio far vedere ragazzi subito una cosa importante la differenza tra le altre confezioni è che quindi il tappo la ciabbi è di quelle nuove ovvero si elimina facilmente quindi il tappo perché non è di quelli incastrati all'interno ma è soprapposto quindi avrà le alette praticamente laterali quindi è di facile utilizzo una volta che abbiamo terminato il nostro liquido la boccettina sarà facilmente riutilizzabile andando nella mia recensione utilizzerò un atomizzatore single coil da 24 mm userò un deflave la mia rigenerazione è stata fatta con una fuser clapton wire in acciaio con queste caratteristiche 26 ga per 2 più 30 ga la mia box benissimo amici andando subito a fare la prova olfattiva dello zio meringhe l'uncol meringhe si avvisa la presenza di questo mix fruttato è avverto forse quasi niente quindi la presenza di questa torta andandolo quindi a vaporizzare è bagnato benissimo si avverte la presenza di una torta non ben definita perché comunque c'è questo mix fruttato al suo interno che va a legare tra lei andandolo quindi a svapare la percezione del gusto sarà molto diversa miei cari amici liquido due svapate ve lo dico è buonissimo si avverte la presenza di questo mix questa rainbow cake praticamente è quella torta denominata arcobaleno dove sono è sovrapposta da strati colorati dove ogni colore rappresenta quindi un sapore diverso un frutto benissimo il bilanciamento quindi l'armonia di questi fruttati tra di loro si deliziano alla grande svapandolo si percepisce questo mix di frutta benissimo i cui componenti della frutta sono arancia ananas e lampone io sinceramente non riesco a distinguerli così bene avverto quindi la nota leggermente più forte che quella del lampone ma intendo forte non che sia così invadente si va quindi a legare con le varie componenti con i vari aromi che hanno fatto questo liquido in più si avverte si percepisce la buonissima torta meringata che è stata sempre base di questa linea vi dico che alle prime svapate io percepisco sin da subito questo mix fruttato note zuccherine al suo interno una volta svapato ragazzi l'odore che emana il liquido è il classico odore di una torta da forno ok una volta svapato la bocca inizia a percepire quindi inizia a rilasciare i sentori di una buonissima torta avendo quindi svapato prima in precedenza c'è stata quindi questa esplosione di sapori fruttati a rilascio io personalmente è come sto trovando questo liquido alla mia percezione di svapo quindi una volta vaporizzato inizio a percepire questa torta burrosa corposa zuccherina dolce mentre quando vado in fase di aspirazione ragazzi percepisco le note fruttate benissimo sono stati bilanciati molto bene il produttore ci dice che è una una sorta di sorbetto quindi una sorta di crema qualcuno qualche sito l'ha spiegato come fosse una spremuta di arancia ananas e lampone io non lo avverto proprio così lo avverto come un cremoso ripieno di questa buonissima torta liquido 70 30 da svapare tranquillamente all day tutto il giorno perché non ha quel forte sapore pungente che magari potrebbe darvi fastidio benissimo amici questa è stata la mia percezione di come ho svapato questo liquido sarei felice di sapere la vostra lasciatemi un commento alla fine del video su youtube e ditemi cosa ne pensate dell'uncle meringhe lasciate un like se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale youtube ho l'isvapo amici qualora non siete iscritti condividete il video sono anche su instagram basta cercarmi basta cercarmi scrivendo ho l'isvapo chiaramente vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questo video ci vediamo alla mia prossima pubblicazione ciao a tutti amici mister nino ciao